L'obiettivo era appunto quello di restare in categoria, quindi in Serie C. L'abbiamo raggiunto nonostante tutto, nonostante un anno comunque difficile per la pandemia, organizzativamente è stato tosto anche per la società, però all'ultima giornata fortunatamente abbiamo raggiunto questo risultato. Esattamente, le prestazioni che ci hanno dato più soddisfazione le abbiamo fatte nei derby regionali e quindi contro il Trento e anche il Brixen e per questo motivo ci hanno dato un po' di rammarico le prestazioni che abbiamo fatto contro le squadre che potevano essere più alla nostra portata e non siamo riuscite però a raccogliere i punti che volevamo. Io per 5 anni sono stata ferma, però è stata un'incognita questa di ritornare, c'era tanta voglia sicuramente e Magra, Lucy Zera mi ha riaccolto a braccia aperte, quindi è stato bello rientrare e il campionato è sicuramente difficile, è stato di un alto livello, qui non ero abituata, però grazie anche alle mie compagne ci sono stati, è andato bene. A questo livello la prestazione fisica è importante, i ritmi sono alti e non manca certo la parte tecnica che comunque ci sono squadre veramente con ottime giocatrici, molto tecniche, ma anche noi abbiamo giocatrici che possono dire la loro. Quest'anno siamo state contente, hanno debuttato alcune ragazze dell'Under 17 del nostro vivaio e hanno portato sicuramente entusiasmo e voglia di fare e hanno anche accumulato dell'esperienza in questa categoria sicuramente importante e non facile. Sicuramente tutta l'esperienza che abbiamo fatto ce la portiamo, abbiamo voglia di fare, di fare bene e di restare in categoria e di soprattutto mettere a frutto o comunque riuscire a ottenere quel qualcosa in più che forse quest'anno ci è un po' mancato. Sì, io sono stata un po' fuori dal campo qualche anno e rientrando vedo proprio una differenza e davvero i numeri stanno crescendo tanto e questo è bellissimo perché vediamo le ragazzine sempre più giovani che si approcciano al calcio femminile e ci fa molto piacere e speriamo di continuare così, il livello si sta alzando quindi va benissimo. Questo ci è mancato tanto, veramente giocare senza i nostri tifosi è davvero stato brutto, però siamo fiduciose per la prossima stagione.